ciao oggi faremo un video bellissimo guardate che costruzione che abbiamo fatto per fare una staffetta di potenziamento gambe fai vedere letì ci divide adesso vi facciamo vedere come si fa l'esercizio poi ci dividiamo in due squadre e vi spiego sì lei la principessa gli abbiamo fatto il trono e va su vai così 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 regole durante questi saltelli non bisogna staccare le mani dalle orecchie durante questi saltelli se si fanno dei passi in mezzo bisogna tornare indietro ok tutto chiaro perfetto allora la squadra che fa che è più veloce e che stoppa fai vedere per favore mi colla fai salto 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 arrivi l'ultima concorrente della squadra deve fare un salto indietro chi riesce a stopparlo vince anche se ha fatto un tempo maggiore ok tutto chiaro benissimo allora facciamo le squadre dai emma contro micole fai risparire sei pari mio sicilia padda napoli questa è la squadrone di emma ottimo allora attenzione pronte chi inizia partite voi ragazze pronte impostazione decidete la formazione ricordatevi che se muovete i passi o staccate le mani dovete ricominciare da capo la squadra di emma è pronta sei prontale vai brava brava quasi 29 secondi e 58 ricordati per la squadra di emma vuoi scriverlo sul blocco siamo pronte micola partiamo possiamo partire già di cosa hai l'ansietta pronta quando vuoi ripartire ripartire rifai 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 allora avrebbero comunque vinto perché hanno fatto 27 41 in più ha stoppato il salto vincono questa sfida questa prima manche il gruppo di micola quindi seconda manche pronte cercate di spingere più davanti possibile quando vuoi calma bravissima dai ragazze che non è mai detta l'ultima parola e vai 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 dai emma c'è che di stoppare adesso stop a emma ok seconda manche quando vuoi mamma mia attenzione si stoppi stoppato ragazze in più vincono questa sfida il gruppo della micola ok volete provare a fare una volta a fare più veloce dai provate ale cerca di esatto brava emma di filo di ooooh 16,93 eh ma perché loro non hanno non sono ritornati indietro anche voi una volta siete tornati indietro provate a farlo anche voi senza tornare indietro se volete eh vai no no rifacciamo sì perché questo adesso non è una gara è per vedere se riuscite a battere i 16 ok no non dovete staccare le maglie della testa mi ha distrucchiato il fondo dai quindi le volete sfidare o no? sì ok eh lo faccio apposta Giada vai 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 ok mi dispiace va bene vincono a questa fantastica sfida le ginastiche della squadra di Micole speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like e attivate la campanellina per vedere tutti i nostri nuovi video ciao domenica 12 settembre dalle 11 in occasione della festa dello sport qui a Bollate in piazza Luther King Martin non ti piace ma sul foglio ce l'ho scritto Martin Luther King cosa sto dicendo dalle 11 mezzogiorno e mezzo saremo a uno stand per fare i firmacopie delle magliette, dei diari, dei libri se non avete niente di tutto ciò potete acquistarli lì se avete voglia vi aspettiamo ciao 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 Ciao!